Ciao a tutti. Benvenuti nel canale Confessioni Interessanti. Io e mio suocero siamo partiti per un viaggio di lavoro. In realtà si trattava di un evento frequente, ma questa volta l'ho ricordato a lungo. Parliamo di tutto con ordine. Sono stato fortunato ad avere parenti da parte di mia moglie. Non erano, per usare un eufemismo, poveri. Sono stato fortunato perché mia moglie non era esigente nei confronti della mia borsa e perché, grazie a mio suocero, sono riuscito a ottenere un lavoro piuttosto prestigioso e ben pagato. Probabilmente vi chiederete cosa ci trovi in me una ragazza di una famiglia ricca che praticamente non conosce i problemi economici. Io stesso non lo so. Forse non sono una persona cattiva e di bell'aspetto, senza falsa modestia. Nella mia vita passata lavoravo in un fitness club come master trainer, dove di fatto ho conosciuto la mia futura moglie. Per molto tempo l'ho allenata prima in palestra, poi l'allenamento è diventato ancora più fitto e intenso, così abbiamo iniziato a saltare le lezioni insieme e a tenerci in forma a letto. Ma la mia storia non riguarda mia moglie e nemmeno mio suocero, bensì mia suocera. A quanto pare, da giovane era proprio come mia moglie, una ragazza bella e semplice, solo che non era nata in una famiglia ricca e aveva sposato con successo un gangster di successo che molto presto si è ravveduto, ha legalizzato la sua attività ed è sopravvissuto ai duri anni 90. Il suocero è cambiato da allora, ma la suocera no, è rimasta quella sciocca ragazza di vent'anni che, in un attimo, è diventata ricca. Solo che ora, nel quinto decennio di vita, non si era ancora svegliata. Non aveva imparato a gestire correttamente il denaro, ma era rimasta la stessa spettacolare bellezza. Sapeva come prendersi cura di sé naturalmente, ma non c'è da stupirsi se nei saloni di bellezza, nei centri di abbronzatura e in altre istituzioni, spaventose per gli uomini, passava la maggior parte della giornata, mentre il resto del tempo socializzava con gli stessi amici patetici e cercava di convincere il marito a darle più soldi per il suo divertimento. A quanto pare, il suocero era soddisfatto di questo stile di vita. A casa, aspettava sempre una moglie soddisfatta con un sorriso artificioso sul volto, che aveva solo bisogno di essere nutrita con il denaro. Aveva scaricato con successo la figlia su un ragazzo poco esigente, cioè me, e lui stesso si godeva il modo di vivere e lo stile della sua vita. L'unica cosa che a volte mi chiedeva di fare era di tenere d'occhio la moglie in sua assenza, affinché non facesse nulla di male. C'erano solo dei precedenti in cui lei organizzava una festa nel loro cottage, in cui i suoi amici imbecilli distruggevano mezza casa. Oppure la donna poteva fare una serie di altre stupidaggini che per me, come parente, erano più facili da gestire. E il suo autista e la sua guardia di sicurezza, Sara e io eravamo in buoni rapporti. Entrambe capivamo perfettamente perché eravamo finite in una famiglia ricca, ma non davamo mai l'impressione di non essere soddisfatte di qualche caratteristica del carattere delle nostre metà. Questo stato di cose andava bene a entrambi e così, ancora una volta, mio suocero, mentre era fuori città, mi chiese di controllare come stava. Come sta mia moglie? Non ha fatto qualcosa nel suo stile? Mi disse. Ogni volta le mie scuse per andare a trovare mia suocera suonavano sempre più ridicole, ma sia che la donna non fosse interessata, sia che credesse a tutte le che mi inventavo al volo. In ogni caso, non c'era alcun problema con queste spiegazioni. E ora, quando feci un cenno alla guardia ed entrai in casa sua, dissi, William ha detto che c'è qualcosa che non va con il vostro tubo in cantina. Mi ha chiesto di dare un'occhiata. Sbottai non credendo alle mie stesse parole. Ehi, Dylan, certo, entra pure. Tanto mi annoio qui da solo, quindi perché non vai da qualche parte a divertirti? Sono un po' annoiato da tutto. Ho questi che mi seguono dappertutto. La donna fece un cenno in direzione della porta, dietro la quale rimanevano in servizio il suo autista e la guardia. Questo è l'unico posto dove posso rilassarmi, fare quello che voglio e ho sempre la sensazione che ci siano telecamere nascoste ovunque. Tutto è possibile. Sorrisi e non cercai di dissuadere mia suocera. Vuoi mangiare? Non mi dispiacerebbe. Accettai. Non avevo mai mangiato male in questa casa. Parlammo a lungo di argomenti distratti. Dopodiché dovetti ancora fingere di essere molto interessata alle tubatur del seminterrato. Mi alzai da tavola e scesi le scale. Il seminterrato di questa casa di lusso era a due livelli. Al primo c'erano le sale di intrattenimento, una sala da biliardo, un tavolo per il poker e altri giochi d'azzardo e persino un minicinema. Il locale caldaia e gli altri impianti fognari erano ancora più in basso, ma anch'essi erano tenuti completamente puliti e il mio telefono ebrontolai. Qui non c'era segnale, il che significava che avrei dovuto annoiarmi per circa dieci minuti senza internet. Dovevo almeno far finta di controllare qualcosa, ma dopo cinque minuti non ce l'ho fatta più e sono salita. La vista dello splendido tavolo da biliardo mi ha ipnotizzato. Volevo accarezzare il suo panno di velluto e, ancora meglio, sistemare le palle e giocare una partita, ma i miei sogni furono interrotti da mia suocera che scese improvvisamente dalle sue faccende in cantina. Qualcosa in lei era cambiato, ma non capì subito cosa fosse. Si scoprì che aveva cambiato il suo vestito con una vestaglia ancora più corta, da cui spuntavano le sue belle gambe abbronzate. Inoltre, la donna aveva sciolto i capelli e ora aveva un aspetto piuttosto ambiguo. Sta cercando di sedurmi? Pensai, ma non lo feci capire. Che c'è, Dylan? Adesso i tubi sono nella stanza della piscina? Ho già controllato. Ora, Dylan, ora! Pensi che sia così stupido da non sapere perché vieni qui? Lei sorrise. Non penso nulla. Per l'inattesa pressione di mia suocera ero confusa, quindi capisco perfettamente che il mio maritino preferito pensi che due assunti non siano sufficienti a controllarmi e abbia da tempo messo sotto contratto te per questo ruolo. Ma non te ne faccio una colpa. Al tuo posto farei la stessa cosa. Se sai tutto, Sara, puoi indovinare che probabilmente ci sono telecamere nascoste anche qui. Cercavo di essere fredda. Ci sono. Sono sicuramente qui. E tu sei ancora qui. Non registrano il suono, Dylan. Non preoccuparti. Quindi possiamo parlare di tutto quello che vogliamo. Basta che non faccia mosse inutili. Così non ci sospettano di nulla. Di cosa stai parlando? Lo scoprirai. Andiamo di sotto. Di sicuro non ci sono orecchie o occhi in più. Non pensi che le telecamere possano dare l'impressione di essere sospette? Siete qui per controllare i tubi, vero? Faccia pure, mi mostri le tubature. Quella donna aveva davvero studiato l'interno della sua casa. Ero sicuro che avrebbe cercato di coinvolgermi in qualche avventura finanziaria o che mi avrebbe cisto di scusarla davanti al marito per via di un prossimo spinello. Ma quello che successe dopo non potevo nemmeno immaginarlo. Appena scendemmo al piano di sotto, mia suocera si girò e mi guardò dritto negli occhi. Il suo sguardo era molto diverso da quello del piano di sopra. C'era un luccichio malizioso in esso. Sara, cosa ti succede adesso? Parliamo onestamente e francamente. Beh, parliamo come se avessi avuto scelta. Sai cosa manca lì a una donna ricca e matura? Immagino che sia così, un amante giovane e bello. A queste parole mia suocera mi passò il suo dito curato sul petto. E non hai paura di essere smascherata dal tuo geloso marito? Cercavo ancora di sembrare il più disinvolta possibile, ma la situazione stava peggiorando. Certo, non lo vorrei, quindi non posso uscire a divertirmi. Farei la spia e, visto che lei è qui ora e su, richiesta personale di mio marito, perché non approfittare di me o della situazione? Chiamatela come volete. Con queste parole la donna sciolse la cintura della sua vestaglia e questa si staccò. Vidi subito che sotto di essa mia suocera era completamente nuda, perché la sua pelle abbronzata attirò il mio sguardo verso il basso. E se non volessi, se mi rifiutassi per qualche motivo? Balbettai. Era da tempo che desideravo questa splendida bellezza matura e prima o poi l'avrei conquistata anch'io. Non ha scelta, disse la donna con sicurezza e gettò la vestaglia ai suoi piedi. Poi iniziò a togliermi la camicia e i jeans, dicendo sempre, dai sbrigati, non abbiamo molto tempo. Ma non potevamo completare questo processo in tempi brevi. Decisi di trarre il massimo beneficio e piacere da questa situazione. Anche mia suocera non era rimasta indietro, trasformandosi in un attimo in una tigre insaziabile. Quando uscimmo dal seminterrato, ci ricordammo a mala pena che dovevamo vestirci e riordinarci. Allora, la prossima volta che verrete a controllare le tubature, mi chiese la donna con nonchalance. Vi è piaciuta questa storia? Fateci sapere nei commenti cosa vi è piaciuto. Abbonatevi al nostro podcast di racconti. Inoltre, non dimenticate di mettere mi piace e di suonare la campanella per non perdere altre storie interessanti. A presto! Grazie!